Il primo dicembre ci vediamo a Milano all'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia. Vogliamo premiare i cinque nuovi campioni dell'innovazione. Sono cinque progetti che hanno vinto l'edizione di questo importante contest promosso dalla Regione Lombardia, insieme con Union Camere e Media Media Guru. Il cambiamento anche nel turismo passa dal coraggio di innovare. Ti aspetto per condividere e conoscere le storie di chi ce l'ha fatta.